A volte commettiamo l'errore di cercare le risposte fuori, piuttosto che dentro di noi. Questo perché ciò che troviamo all'esterno sembra essere più attraente. Finiamo così per dimenticare chi siamo veramente, cosa desideriamo dalla nostra vita e qual è il nostro scopo. Quando inizio a lavorare con una persona, immagino di sentirmi come un archeologo che grazie al suo lavoro cerca e scopre oggetti sepolti dalla polvere del tempo e della vita e via via, strato dopo strato, li riporta alla luce. E così, come l'archeologo davanti ad un tesoro nascosto, il mio compito è quello di aiutarti a recuperare te stesso. Quando il tuo percorso diventa difficile, lo sforzo che fai non è più sufficiente, puoi sentirti senza via di uscita. È qui che il tuo stile di vita diventa faticoso o doloroso e possono insorgere quei sintomi che impediscono di viverti al meglio. Quali sono i miei valori? Cosa dà un pieno senso alla mia vita? Cosa mi rende veramente felice? Spesso dimentichiamo di porci queste domande allontanandoci da noi stessi quando la vita ci inghiotte mille cose da fare. Così, mentre il tempo passa, i sintomi diventano più gravi, impedendoci di vivere a pieno. Guardi il tuo problema e ti chiedi, ce la farò mai? È questo il momento di non arrenderti e di ritrovare la tua forza, anche se sei stanco e pensi di non farcela. Ed è importante che tu riconosca di aver bisogno di un aiuto esperto per evitare sofferenze e difficoltà inutili e non perdere il tuo tempo. Dedicati a te e fai questo sforzo, impegnati per raggiungere il tuo obiettivo. Affronta il tuo problema, non accantonarlo, non fuggire. Vinci le tue paure, perché alla fine quello che proverai è un grande senso di soddisfazione e in questo sforzo ritroverai te stesso. Quello che ti serve, ma che serve in fondo a tutti noi, è imparare a volersi bene, imparare a scoprire e riconoscere il proprio valore. La vita è il tuo unico e personale viaggio e non devi sprecarla perché il nostro tempo qui non è infinito. La vita non è un giro di prova su una giostra di cui è possibile ricomprare il biglietto. È nel cui è ora che si esplica. Dove sto andando? Cosa riesco a vedere? Cosa riesco a sentire? Qual è il senso della mia vita? Inizia ad apprezzare quello che ogni nuovo giorno ha da offrirti. Ogni cosa ha il suo tempo e questo è il tempo giusto per ristabilire una connessione con te stesso. Questo è il momento di conoscerti veramente, fino in fondo. Solo così potrai ascoltare la tua musica interiore e apprezzare la bellezza della vita per quella che è. Per andare avanti nel cammino della vita, ma anche per crescere interiormente in maniera sana e utile, scoprendo e valorizzando il proprio vero sé, ci vogliono impegno, determinazione e il giusto aiuto, se necessario. Lascia che torni a splendere il sole dopo la notte buia e vedrai che più la notte è stata buia e più la luce del mattino sarà splendente. Se vivi bene, secondo le tue corde, arriverai a credere in te stesso e a sentire che quello che stai facendo lo stai facendo bene e se dovessi sbagliare saprai perdonarti. Sono Patrizia Pietropaolo, psicologo, psicoterapeuta e life coach. Ho aiutato centinaia di persone a ritrovare se stesse, superando ansia, attacchi di panico, depressione e altri sintomi che possono ostacolare il nostro percorso di vita. Come psicologo, psicoterapeuta e life coach io posso aiutarti. Posso insegnarti a superare le tue paure e affrontare gli ostacoli e possiamo lavorare insieme per risolvere i tuoi sintomi in modo che tu sia in grado di affrontare la tua vita con la forza che forse ancora non sai nemmeno di avere e con il coraggio che pensi ti manchi. Ti auguro di fare un bellissimo viaggio esprimendoti appieno e sentendoti al sicuro diventando così la miglior versione possibile di te stesso. In questo tuo unico e personale viaggio chiamato vita Inizia a sentirti come una farfalla, esci dalla tua crisaline, non è bellissimo volare? Inizia a sentirti come un'altra, esci dalla tua crisi Inizia a sentirti come un'altra mappa Inizia a sentirti come un'altra, esci dalla tua crisi Grazie a tutti.